Ilari Blasi, durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello VIP 2, ha fatto una gaff su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, il pubblico critica la conduzione della moglie di Totti, 21 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi Ilari Blasi, durante le oltre quattro ore di diretta dell'undicesima puntata del Grande Fratello VIP 2, la conduttrice Ilari Blasi si è lasciata andare a una gaff che ha fatto esplodere in una risata il pubblico in studio Ignazio scusa, puoi andare in Cecilia. La moglie di Francesco Totti si è subito corretto scusa, volevo dire in cucina puoi andare in cucina, ma il danno ormai era fatto. Se il pubblico in studio è scoppiato, il popolo del web invece ha infierito sullo scivolone della conduttrice GF VIP, Ignazio puoi andare in Cecilia Ilari per me hai vinto tutto, posso anche morire adesso Ignazio scusa, puoi entrare in Cecilia Ilari LH ha detto davanti a milioni di telespettatori. Ah 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 epico GF VIP, hanno scritto alcuni utenti. E ancora e comunque Ilari Ieri aveva Cecilia sempre in bocca GF VIP ha fatto più gaff si lari in questa edizione del GF VIP che giurato in tutta la sua carriera. Ecco il momento della puntata di ieri sera in cui la Blasi ha fatto la gaff si può notare la reazione scioccata e divertita di Ignazio Moser. Ignazio, puoi andare in Cecilia GF VIP pic.twitter.confnpoyux.trashitaliano.it Chiocciola trash trattino basso italiano 20 novembre 2017 Critiche per Ilari Blasi La conduzione di Ilari Blasi è stata molto criticata ieri sera. Il pubblico da casa ha criticato la conduttrice per essere troppo di parte. Penalizzando altri concorrenti mi spiegate che senso a far condurre il GF VIP a Ilari Blasi che non ha un minimo di tatto. Tratta male Ivana e esalta quei montati di testa dei Rodriguez. Io rivolgo Alessia Marcuzzi e visto che ci siamo fuori anche signorini, ha scritto un utente su Twitter. E ancora io non seguo il GF VIP ma mi sono ritrovato il video della sorpresa a Ivana e a LH ho visto e... Quanto è stata cafona Ilari Bò. Altri hanno criticato i numerosi errori fatti dalla conduttrice nel corso della puntata Mia Nonna Quando chiamano i nipoti per nome fa meno confusione di Ilari Blasi GF VIP E stasera Ilari parla peggio dei Rodriguez e di Amanda Lirm e si insieme. GF VIP Tanti sono rimasti delusi dello spazio troppo dedicato a Cecilia Rodriguez Sillare E puoi specificare che solo a te signorini emoziona questa storia no perché qui a tutta Italia fa solo schifo. GF VIP Diritti d'autore Riproduzione riservata GF VIP